spuntini un pensiero e via con giacomo casolari è sbagliato cercare di guardare troppo avanti la catena del destino può essere afferrata solo un anello alla volta sir wilson churchill politico britannico è sbagliato cercare di guardare troppo avanti come dire che la vita può essere vissuta un giorno alla volta la nostra vita può essere vissuta solo un giorno alla volta avere una visione sul futuro può essere interessante ma è importante imparare a vivere bene il tempo presente troppe volte preoccupati per il futuro non riusciamo a vivere il tempo di oggi troppe volte preoccupati ansiosi per il futuro oppure presi da rimossi e ripensamenti della realtà vissuta ma la vita va vissuta un giorno alla volta la vita la possiamo vivere solo un giorno alla volta e non sappiamo quanti saranno i giorni che abbiamo davanti e come questa catena del destino come la chiama wilson churchill può essere afferrata solo un anello alla volta e così che ogni giorno ha un suo senso un suo significato se lo viviamo e lo viviamo bene oggi non importa quanto difficile complicato possa essere ma che questa giornata possa essere una giornata che tu vivi alla gloria di dio che questa giornata tu la possa vivere al servizio del tuo prossimo che questa giornata tu la possa vivere nella pace e nella grazia del nostro signore è possibile confida in dio per il futuro affidati a dio per il tuo passato che la misericordia di dio ti invada ti travolga ma vivi oggi sapendo che oggi è il giorno che dio ti ha dato che oggi è il giorno della grazia che oggi è il giorno che ti è dato da vivere vivilo nel modo migliore vivilo ringraziandolo vivilo offrendo questo giorno a chi ti sta vicino come fosse l'ultimo come fosse la tua ultima espressione di amore comportati e vivi questo giorno sapendo che è un dono sapendo che non te lo meriti sapendo che è dio che ti regala questo ogni giorno che dio ci dà un regalo e lo vogliamo vivere lo vogliamo vivere con tutto il suo significato possa la grazia di dio sostenerti proteggerti possa il signore dare un significato ad ogni giorno che noi viviamo e non pensare al passato dicendo a che bei giorni o che bei tempi e non pensare al futuro chissà che cosa succederà ma vivi bene questa giornata e oggi costruisci il tuo futuro oggi costruisci delle relazioni dei legami di forza di amore di giustizia perché nel tuo futuro quello che hai costruito oggi ci sarà che dio ti benedica un abbraccio da giacomo spuntini un pensiero e via con giacomo casolari grazie a tutti